Se no top con lo speltif, pensa a te 200 e più Va bene questo Si pronuncia una bella partita Così a occhio Domattina comunque mi vado anche a tagliare i capelli E non ce la faccio più ad averli così Che si non fatto, non ho idea Anzi Grazie, giroxint, grazie di cheers, bello Allora Forza e coraggio Ragazzi Cosa è successo Ok Andiamo back? Si dai Io ci prendiamo anche il Doran E let's go L'ignite raga perché avevo paura che il veleno di Twitch non bastasse E anche perché volevo la kill Soprattutto per quello Eh si Volevo la kill A casa 51 di AP A livello 1 Not bad Se la neve viene sotto casa vostra Si 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 Bella crow Si comunque immaginavo il mondo top Le Ma in genere i miei non dovrebbero attaccare i nemici che Ole Cazzo attaccatela E' ok Tanto ho preso tre pozze C'è i biscotti Allora 50 secondi 50 secondi Ecco qua Sono troppo easy il game Giusto Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo 7 HP Mannaggia Peccato E' rimasto rente senza HP Quello 7 HP Cos'è siete nel mood Del Della vetrina Bravi ragazzi Così vi voglio Spera che qua swap Eh si ho già 100 di AP Sarebbe andata meglio se si ucciso 7 Ma è rimasto con 7 HP Non uno di più Asci Dove è andata Ok Pusciamo Oh Chi ti ha detto che puoi Via Nella nostra Italia Non c'è spazio Per i campi E quindi Allora Ottimo Mi manca un minion Per la ulti One shot to ash Adesso Nice GG in chat Grazie Dove sono i miei GG spontanei Grazie 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 GG spontanei Ragazzi Grazie mille Grazie GG spontanei Oh Vedete che vi ho abituato bene Super spontanei Ragazzi Quando faccio delle belle azioni Dovete Dovete darmi GG Dovete farmi sentire Orgoglioso Di quello che ho fatto Capito Adesso Riuscidiamo ash E E mi tirate fuori Altro GG Spontaneo Va bene È più forte Questo muco A 20 Poi è full AP Capirai Abbiamo bisogno di killare anche la loro botta O vado top Vado top Non penso arrivare in tempo Ma ci provo No Infatti Oltretutto è anche guardato Quindi E non ho la ultima Ender Chaos Grazie mille carissimo Del sub Per una bella giocata Oh Amma mia Avessi sempre Premi così belli Guarda Grazie mille il tuo premio bro Lì Mamma mia Olè Urca Urca Ash Ash Dove sei Dove sei Fatti vedere E quindi Ecco A casa Distrutta ragazzi Distrutta Smolecolata Smolecolata Oh Gra Oh Ragazzi Guardate quanti gg spontanei in chat Grazie a tutti dei gg spontanei Siete un pubblico meraviglioso Le altre chat vi invidiano Certo che lo farò Oh esatto Fatevi vedere Così Aia Aiuto Ottimo Io non c'ho C'ho vita Cosa vengo a fare Ok Dai aspettiamo sti 40 gold Ma si dai Anzi no Facciamo una Una mossa migliore Ecco qua Ma perché il nostro jungle non è arrivato Cosa sto vedendo Ottimo Ottimo GG GG grazie L'abbiamo salvata Quante l'API Non lo so Dopo ci guardiamo Dopo questa E quindi Allora Calma 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 Yes Ragazzi Come si dice in queste occasioni Qual è la emote giusta da spammare? Eh si Chef kiss GG Grazie Grazie Signore pandino Grazie comunque I quattro mesi Non ti ho ringraziato prima Bentornato Ci saranno anche Troi con set Reproduce is set No Reproduce is senna Si è mai Si è mai A A A casa Sgomberato Sgomberato Basta Ma il nostro support No Hello Hello M R O 78 G Fede A A A A A A A A A B Abbiamo fatto ripire chi cazzo comanda dire Miro grazie mille del sub regalato Grazie mille gentilissimo Oh le Allè GG ha rivinto lo sport Mi serve ancora a climare il mondo Sì Bobby Eh no eh Se la neve viene sotto casa vostra Baffa il culo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Perché ho come l'impressione che abbia attaccato qualche minion ragazzi Non so così a occhio eh Poi magari non è successo Potrebbe essere avvenuto GG spontaneo Questo è Mamma mia Ok andiamo a uccidere il mondo Hello Ecco qua Perfetto Eh sì Abbiamo rincasato mondo Vai adesso abbiamo la cooldown della ulti a 73 secondi Ok Carano Grazie mille del resub Bello Secondo mese Bentornato nella Felixarm Grazie il tuo Amazon Prime Allora Hello Aaaaaaah Cento goldi Cento goldi Welcome To the fear Allora il mondo può anche andarsene Grazie Miro Un altro sub regalato Miro Io adesso non è che voglio metterti pressione Ma altri 4 sub E scegli il prossimo pick Eh Mi ricordo che la scelta del prossimo pick è a 6 sub Insomma bisogna alzare un po' il prezzo Se no veramente No Anguolo stasera abbiamo alzato Attenzione anche Oh ma che so tutti sti sub regalati qua Grazie pass del sub regalato Eh vabbè Adesso viene a cacarmi il cazzo Nice Noice 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 Eh le tasse Oggi sono andato al commercialista E ho detto E io E allora niente Sono diventato povero Eh niente Gold reset allora Io qua infilerei Un bel trinchetto rosso Che male non fa Mondo da che lato è andato Oddio Minchia non c'è solo mod davvero Qua bisogna licenziarli mod Forse se pagassi di più Bisogna licenziarli Ingrati State facendo Apprendistato qua Lì Oddio Cazzo non la ulti Aaaaaa Non ce l'avevo E non avevo neanche il tuo Oddio Va bene Va bene Sto recuperando le stacche Copersa Din 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 Dov'è andata Dov'è andata Dov'è 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 Bobby Dov'è Prendilo Quasi Che partita siamo La prima Li paghi anche Ovviamente no Please mi metti mod Mmm Non basta Addio Puffete proprio Allora adesso Devo ingaggiare solo Quando ho la ulti Perché senza ulti Sono inutile Cioè non sono inutile Però non posso fare Un uvo 3 Ecco quello si Quella c'ha un double buff Ok Ora ce l'ho io il double buff Aaaaaah Eh cazzo ho messo Ignite su quello sbagliato Boom Bobby Tutti a casa Tutti a casa Tutti Eh Questo è un bel gg Good feed Oh Bundo Eccolo lì che si lamenta D'altezza della sua top lane Dov'è Se ne è accorto adesso Lo stanno dicendo Cazzo è successo Oh dio Oddio 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 Aaaaaah Dio bono Non muore Non muore Quello Che palle Non so se andare di Zonia In effetti pure la Zonia aiuterebbe, sapete Ah, mi sa che andrò di Zonia Oddio, però ormai stavo facendo il morello Vabbè, finiamo il morello Ha uno scudo enorme, sì Che decadi istantaneamente Però ti pare un bar, sta assurdo Ciao, sono nuovo, benvenuto allora Dobbiamo riprendere un po' di stack di Mejai Che cazzo Sarebbe il blue buff Ce la fanno, sì dai, sono due di Carrie, c'è Vayne Ok, non c'è il blue Alla, chi Peccato Oh ma, what the fuck Le hitbox qua Oh Non ho ascoltato, vabbè tranquillo Adesso Lì No Nice feed Un attimo Mamma mia signori che dodge Eh sì, Bob Eh sì, Bob Eh sì Back Allora Grazie mille Anthony Lepardo Dei cheers A chi per la fretta caga di Nell'ortica spesso il culo di formica Ok Oh, what the fuck Ah, ok, abbiamo vinto Ok Grazie Anthony A casa A casa Miro Grazie mille del terzo sub regalato Miro Non te lo sto anche a dire Lo sai già Grazie mille del sub E grazie anche a Zazughe Grazie mille Zazughe Buon anniversario, carissimo Buon anniversario Allora Io direi un bellone Buon lui È stato bravo Perché lanciare un'auto Quando ti puoi fermare E lanciare una Q Esatto Quanto è lungo Oddio Ragazzi Guardate Guardate quanto è lungo Lunghissimo Come la benda di Amumu È sette metri Yasua Mi dispiace Caro Yasua Yasua La dici Yasua Omg E va